Cosa sta a guardare? Cantina arrivo tra 30 secondi E' l'ora di buttarmi nella muschetta! 5, 4, 3, 2, 1, attaccanti in arrivo 5, 4, 3, 1, attaccanti in arrivo 3, 2, attaccanti in arrivo 6, 4, 3, attaccanti in arrivo Cosa sta a guardare? Rapport di caos Cosa sta a guardare? Buongiorno a tutti. Si batte! Nemico individuato! Si batte! Uncidio in copia. Nessuno spettino spaventa. è no 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 o o o o o o o o o mancano 60 secondi mancano 30 secondi il carico ha raggiunto il 5 si va si va Perfiorno, pronto a lavorare! Perfiorno, pronto a lavorare! Questa è la festa di Ammur a tutte le stacioni dell'applicazione di Ammur a fare la sortae. Perfiorno a tutti le persone svolte di Ammur a fare la vita di Ammur a cura di Ammur a fare la parte di Ammur. Perfiorno a tutti le persone svolte dall'Applicazione di Ammur! Perfiorno! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.